Sì, infatti condividiamo anche per esperienza, per aver conosciuto personalmente un'attivista egiziana, Mona Heltahawi, che appunto è molto agguerrita, coraggiosa e nei suoi discorsi mette sempre in evidenza il fatto di dover cambiare quegli assetti mentali rigidi che poi ritroviamo nelle nostre stanze da letto, nelle nostre strade, nelle nostre case. Ecco, questo è un tentativo forte di cambiare proprio la cultura che restringe poi la libertà degli esseri umani. Dovremmo parlare un pochino anche dell'Algeria, dove tu appunto come titolo metti eccezione o modello? Come mai? Dopo l'inizio della rivolta tunisina e dell'abbattimento di Ben Ali, gli algerini pensavano di poter riprendere anche loro la loro lotta che hanno portato avanti per molti anni contro il regime che loro chiamano il buteflichismo, cioè il regime del presidente buteflica al potere dal 99 che in qualche modo è riuscito un po' sulla convinzione ad avere sotto il controllo tutte le forze politiche in Algeria ma ad avere la supremazia su tutto in Algeria, praticamente non esiste più un'opposizione eppure c'è molto disagio, molto malessere. Però questa mobilitazione non è riuscita in Algeria, loro hanno provato per due o tre settimane ogni settimana a manifestare io ero presente per altre manifestazioni, ma non sono riuscite per diversi motivi. Naturalmente c'era una forte oppressione da parte del regime ma un'oppressione che non è che si è manifestata con spari, morti eccetera, no, i militari e le forze antisommosa hanno semplicemente occupato le piazze io mi ricordo quel giorno dovevamo andare in piazza Primo Maggio, che è la piazza tradizionale di Algeria dove si fanno tutte le manifestazioni ed era praticamente occupata da forze militari, da forze antisommossa. Già la sera prima avevano cercato di bloccare tutti quelli che venivano da fuori Algeria per manifestare e quindi quando si arrivava in piazza soprattutto i rappresentanti della società civile, perché erano soprattutto società civile i rappresentanti dei gruppi di donne e così che arrivavano lì, li prendevano, li portavano alla caserma e poi certo li rilasciavano ma insomma hanno fatto un'azione così di disturbo per impedire che si facessero queste manifestazioni e c'erano anche altri elementi però che hanno contribuito al fallimento di queste manifestazioni intanto lì si era costituito già un coordinamento nazionale per la democrazia e il cambiamento quindi perché la società civile era più organizzata in Algeria che in altri paesi era più organizzata perché in Algeria una rivoluzione del genere c'era stata nell'88 e aveva portato alla fine del partito unico e anche quella rivoluzione era stata come le rivoluzioni che si sono svolte nel 2011 negli altri paesi arabi era partita anche come una protesta per le condizioni di vita ma era diventata subito una lotta per la libertà, la giustizia sociale, la giustizia in senso lato ed era partita da alcuni sindacalisti della sinistra che avevano indetto uno sciopero generale però poi questi sindacalisti sono stati subito incarcerati e questo ha permesso agli islamisti di subentrare nella lotta e quindi poi di cavalcare una lotta che non era assolutamente partita dagli islamisti quindi c'è stato un po' la stessa, quello che è successo molti anni dopo negli altri paesi era già successo in Algeria per questo parlo di modello e siccome queste manifestazioni comunque vanno portate alla fine del partito unico e all'apertura della libertà di stampa che è stata una cosa molto importante invece perché da lì è cominciata la pubblicazione di molti giornali e molti giornalisti che lavoravano nella stampa statale sono usciti hanno fondato nuovi giornali e hanno veramente permesso una libertà di espressione l'esempio della stampa algerina in quegli anni è stata unica nel mondo arabo perché veramente c'era una ricchezza di informazione e anche un livello di giornalismo molto preparato, molto alto rispetto a altri paesi quindi è stato un esempio per questo ma alle elezioni anche lì hanno vinto gli islamisti ed era in gran parte un voto di protesta contro l'ex partito unico perché molti consideravano che l'unico partito che avrebbe in qualche modo potuto sconfiggere l'FLN che era il partito unico, che era però il partito che veniva dalla guerra di liberazione il fronte nazionale di liberazione era il partito storico e però gli islamisti, poi c'erano molti altri partiti come dappertutto succede quando finisce un partito unico c'è un fiorire di partiti, quindi in Algeria erano nati 50 partiti il primo partito a essere legalizzato era stato il partito islamista che lì si chiamava fronte islamico di salvezza e molta gente pensava che se si voleva veramente dare un colpo al partito unico bisognava votare questo, che era il partito che si opponeva in modo più radicalmente all'FLN e quindi molti per protesta hanno votato gli islamisti pensando che poi insomma tutto sarebbe cambiato